Ha ricordato come la Campania abbia previsto una spesa complessiva di un miliardo e 300 milioni per mettere a nuovo l'edilizia ospedaliera regionale ed ora si mantiene la promessa per realizzare l'ospedale unico della costiera sorrentina. A Palazzo Santa Lucia Vincenzo De Luca annuncia la svolta per la struttura sanitaria e con i sindaci del territorio auspica tempi certi per portare a termine l'intervento. Una giornata importante per diversi motivi. Primo perché abbiamo dimostrato di essere un governo che mantiene la parola e l'impegno dato e dunque l'ospedale unico della penisola sorrentina si farà. L'attuale ospedale e le attuali strutture rimarranno ma saranno rifunzionalizzate. Avremo un progetto che avrà anche delle complessità ma tuttavia è sicuramente alla nostra portata fare un intervento che abbia dei tempi di realizzazione congrui non bibrici. De Luca è elogiato l'unità dei sindaci dell'area da Vicoequense a Meta da Sorrento a Massalubrense e Positano fino a Sant'Agnello dove sorgerà la struttura da 250 posti letto. Intanto resta alta l'attenzione sul fronte covid. Il governatore sta seguendo con attenzione l'evoluzione del contagio nella sua città. In un giorno a Salerno si sono registrati ben 92 casi, il triplo rispetto al solito. Su base regionale è in calo l'indice di positività al di sotto dell'8%. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi si registrano 1539 infetti e 17 vittime. In ribasso anche i ricoveri in terapia intensiva.